Finge di essere un postino, in realtà è un rapinatore. Colpo da circa 100.000 euro alla Fedor di San Zeno, nella zona industriale di Arezzo. È accaduto ieri mattina, l'uomo con indosso una pettorina gialla ha finto di dover consegnare una raccomandata e una volta dentro ha minacciato con una pistola il titolare. Si è fatto aprire la cassaforte, ha legato e bloccato l'uomo con il nastro adesivo. Ha afferrato un lingotto e altro oro lavorato dalla cassaforte per un valore di circa 100.000 euro, si è poi allontanato in silenzio senza che nessuno si accorgesse di nulla ed ha guadagnato la fuga con la complicità di un altro bandito. Solo intorno alle 9 il titolare è riuscito a liberarsi e ad avvisare i carabinieri e gli agenti della telecontrol che si sono precipitati sul posto. Gli inquirenti hanno acquisito le immagini delle telecamere di sorveglianza.